L'anno 2011, il giorno 29 del mese di novembre, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, essenzio dell'articolo 93 della Costituzione, presta giuramento. Il Presidente di sezione del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, Ministro senza portafoglio, al quale, come risulta dal verbale del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2011, sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e per la semplificazione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Del giuramento del Ministro Patroni Griffi, prestato oggi, 29 novembre 2011, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stato redatto di istinto verbale, firmato dal giurante, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni. Grazie Presidente, grazie Presidente.